I giochi di agosto Il mese di agosto si apre con un gioco a lungo atteso e più volte posticipato. Divinity Dragon Commander è un mix di strategia e azione, in cui il giocatore dovrà affrontare una sanguinosa guerra tra razze in un mondo fantasy. Tra una battaglia e l'altra si alternano momenti tattici con una struttura simile a quella degli strategici in tempo reale e adrenaliniche sessioni aeree, in cui si prende il controllo diretto di un drago dotato di jetpack. Sarà così possibile sfrecciare tra le fila nemiche ed eliminare le navi avversarie con devastanti attacchi, ma fondamentale sarà anche curare le relazioni diplomatiche con gli eserciti alleati. Dopo ben due anni dal debutto in Giappone, Tales of Xillia è finalmente pronto ad arrivare anche sugli scaffali dei negozi italiani. In questa nuova ed epica avventura, il giocatore seguirà le avventure di Jude Miller. Per la prima volta nella serie Tales of, sarà infatti possibile seguire la trama attraverso due punti di vista differenti. Un'ulteriore novità è rappresentata dal sistema di combattimento, fedele a quello tradizionale della serie, ma con diverse migliorie ed evoluzioni. L'appuntamento più importante per gli appassionati di giochi di strategia è senza dubbio quello con Europa Universalis 4. Il nuovo episodio non rappresenta una rivoluzione nella serie di Paradox, ma mira piuttosto a migliorare ed arricchire una struttura consolidata e apprezzata da diversi anni. Lo scopo resta quello di gestire una nazione attraverso tre secoli di storia, ma ovviamente la differenza più evidente con Europa Universalis 3 sta nella realizzazione estetica e nella cura per i dettagli, che rendono l'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Sam Fisher torna su PC e console con un capitolo che prova a mescolare il feeling dei primi Splinter Cell con la narrazione cinematografica e la fluidità di Convinction. I fan storici della serie ritroveranno in blacklist una maggiore enfasi sull'azione furtiva e sull'utilizzo dei gadget a propria disposizione, dovendo muoversi con cautela per non farsi scoprire. Per la felicità dei giocatori più competitivi, ritonerà inoltre la modalità spie contro mercenari, adattata e ammodernata per accontentare sia i veterani che i nuovi arrivati. Irriverente sboccata e assolutamente fuori di testa, la serie Science Row è arrivata al suo quarto capitolo dopo essersi scrollata di dosso l'etichetta di clone di GTA. Rispetto agli episodi precedenti, Science Row 4 punta ad essere più spettacolare cinematografico, con una quantità maggiore di scene di intermezzo e sequenze più spettacolari. Inutile dire che il punto di forza di questo enorme sandbox restano la forte ironia e i personaggi assolutamente improbabili. In questo capitolo rese ancora più folli dall'aggiunta di superpoteri. Ci sono voluti sette anni di sviluppo, diversi ritardi, un cambio di rotta e un nuovo nome, ma finalmente 2K Games è pronta a pubblicare dei bureau XCOM Declassified, sparatutto in terza persona ambientato nell'universo fantascientifico di XCOM. Ambientato nel 1962, il gioco vi metterà nei panni di un agente dell'FBI intento a investigare su una razza aliena pronta ad attaccare il pianeta Terra. Bisognerà valutare la varietà di gioco e la profondità delle missioni, ma alcune meccaniche originali potrebbero rendere De Bruo uno sparatutto assolutamente unico. Tra i primi giochi ad essere annunciati per Wii U, The Wonderful 101 arriva in esclusiva sulla console Nintendo. Nel corso dell'avventura il giocatore prenderà il controllo di un gruppetto di supereroi impegnati a fermare nemici che mettono costantemente in pericolo la loro città. La particolarità sta nel fatto che, tracciando dei comandi sullo schermo del gamepad, è possibile disporre i piccoli personaggi in speciali formazioni di attacco. Fondamentale sarà esplorare l'ambiente circostante per trovare nuovi cittadini da ruolare nel proprio gruppo di eroi. E passiamo a Killer is Dead, il nuovo e particolare action ideato dall'eccentrico Suda51. Protagonista è Mondo Zappa, un sicario armato di katana e di braccio bionico in grado di assorbire il sangue dei suoi avversari per scatenare devastanti attacchi speciali. Non mancherà di certo quello che è il marchio di fabbrica dello sviluppatore giapponese, un mix tra atmosfera unica, personaggi fuori del comune, azione sanguinolenta e ragazze sexy. Nel caldo mese di agosto Square Enix ci riporterà nel fantastico regno di Eorzea con Final Fantasy XIV e Realm Reborn, un tentativo di rilanciare il suo criticato MM o RPG ed espandere la community di appassionati in giro per il mondo. Questa nuova avventura comincia cinque anni dopo gli eventi del capitolo originale e cerca di introdurre tutta una serie di migliorie grazie a un nuovo motore di gioco, server più stabili, una nuova trama e meccaniche di gameplay completamente riviste. Dopo l'ottimo successo di critica ricevuto negli Stati Uniti, il quarto capitolo della serie Etre Anode si arriva anche sui 3DS dei giocatori europei con uno dei capitoli più riusciti della saga. Il gameplay non si discosta troppo da quelli degli episodi precedenti, con diverse classi di personaggi, un gran numero di creature da sconfiggere e ambientazioni da esplorare. Evidenti sono i passi avanti fatti in termini estetici e di interfaccia, ma una nuova opzione casual permetterà ai meno esperti di muovere i primi passi nella serie, per poi aumentare il livello di difficoltà in qualsiasi momento. Già disponibile da diversi mesi sul mercato giapponese, Pirate Warriors 2 è il nuovo gioco d'azione ambientato nel mondo di One Piece, in cui vestire i panni della ciurma del cappello di paglia. Una delle novità più grandi rispetto al primo capitolo è la trama, che si discosta dagli eventi del manga e dell'anime per raccontare un'avventura del tutto inedita. Anche il sistema di combattimento è stato rivisto, migliorando la gestione dei personaggi e inserendo nuove abilità speciali chiamate Aki. Il primo Payday si rivelò una piacevole sorpresa per gli appassionati degli FPS cooperativi, che una volta tanto potevano vestire i panni dei rapinatori. In arrivo, sia su PC che su console, il seguito espanderà e migliorerà le meccaniche dell'originale, aggiungendo nuove tipologie di missioni, nuove armi e nuovi oggetti da utilizzare durante ogni rapina. Ma soprattutto è stato introdotto un sistema di crescita dei personaggi, che permette di sbloccare nuove caratteristiche e perks per ciascuna delle quattro classi disponibili. Con Disney Infinity, la compagnia di Topolino dichiara guerra alla serie Skylanders con un nuovo videogioco basato sull'utilizzo di statuette collezionabili. Ognuna di queste rappresenta un personaggio dell'universo Disney o di quello Pixar, come Jack Sparrow o Buzz Lightyear e Ralph spacca tutto. Utilizzando una particolare piattaforma, è possibile utilizzare queste miniature per far apparire il corrispettivo eroe all'interno del gioco e interagire con l'ambiente circostante nelle varie modalità disponibili. Dopo quattro anni dal successo del primo capitolo, PopCap Games si prepara a pubblicare il seguito di uno dei tower di fans più amati sia dai giocatori casual che dagli hardcore. Plants vs Zombies 2 riprenderà la formula vincente dell'episodio originale, ma stavolta sarà ambientato in tre epoche differenti, l'antico Egitto, il vecchio West e il mondo dei pirati. Ogni scenario avrà degli zombie assolutamente unici, sia nell'estetica che nelle abilità, ma non mancheranno tante altre novità come power-up e piante inedite. Il gioco sarà infine distribuito col modello free-to-play. A tre anni di distanza dall'uscita di Lost Planet 2, Capcom prova a rilanciare la sua serie di sparatutto in terza persona con un prequel ambientato molti anni prima degli eventi narrati nel primo capitolo e rispetto agli episodi precedenti, Lost Planet 3 sarà molto più incentrato sulla narrazione e sulla spettacolarità degli eventi. Ma la trama non sarà l'unica novità del gioco. Un nuovo sistema di progressione permetterà al giocatore di scegliere liberamente se seguire le missioni principali o di esplorare il vasto mondo alieno, dedicandosi a obiettivi secondari e alla raccolta di oggetti utili. E chiudiamo con un gioco a lungo atteso dagli appassionati di Platform 2D. Parliamo ovviamente di Rayman Legends, nuova avventura della buffa melanzana di Ubisoft che riprende e migliora l'apprezzata formula di Rayman Origins. Oltre a battaglie con boss più intense e spettacolari e a un'esperienza multigiocatore ancora più divertente, questo nuovo episodio introduce una serie di divertenti ambientazioni a tema e livelli musicali in cui il giocatore deve dimostrare abilità e senso del ritmo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS